Questa è la convenzione che andremo a firmare e che permetterà, come dicevo prima, la collaborazione appunto tra Scuola, Alberghiera, Prealpi e l'Associazione Provinciale dei Cuochi, provincia di Varecce. Io innanzitutto voglio ringraziare l'Istituto Prealpi che ci ha aperto le porte, la via ce l'ha creata il nostro socio Carlo Mazzara, di questo ne siamo veramente contenti. Il nostro progetto è quello di avvicinare i ragazzi con una passarella al mondo del lavoro, un progetto trasversale che comunque vada a completare gli studi che stanno già facendo all'interno dell'Istituto. Questo darà modo ai ragazzi di frequentare, come abbiamo detto, ambienti differenti da quelli che sono alla scuola e grazie a voi potremmo entrare nelle vostre cucine e andare a ampliare quelli che sono i vostri progetti formativi. Per l'Associazione Provinciale Cuochi Varese oggi è sicuramente un momento storico. Il fatto di aver firmato una convenzione è come un istituto alberghiero, il Prealpi di Saronno è sicuramente motivo di gioia e anche per i nostri associati sarà un vanto perché veramente non è mai stata fatta una cosa del genere, Varese. Grazie ancora. Grazie a lei. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie.